Ci sono cose nella realtà che a volte superano la fantasia, potremo convergere tutte le nostre energie nella creatività e così reinventare il mondo, ma mai riusciremo a migliorare o sostituire lui che senza dubbio rappresenta la realtà più fantastica. Quando al mattino ti svegli già con una voglia, corri in bagno mentre di là la mamma fa la sfoglia, mi tiri fuori e devi che sono bello e dritto. Stai pensando questo qui, ora dove lo picco? Io lo so perché questa è la vita mia, mi usi per i tuoi comodi e poi mi butti via. Stai pensando questo qui, ora dove ho bisogno di più vikt'io e dentro di questo tema. Mi fai male, lo sai, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano, a spingermi dentro e fuori. Io sono duro, ma morbido, e sensibile in punta, ma tu non sei contento, finché non vedi che è gialla e unta. E mi domando perché mi tratti così, e se i fratelli che ho lasciato a casa farà un stabile qui. E mi domando perché mi tratti così, e se i fratelli che ho lasciato a casa, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano, a spingermi dentro e fuori. E mi domando perché mi tratti così, e se i fratelli che ho lasciato a casa, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano, a spingermi dentro e fuori. E mi domando perché mi tratti così, e se i fratelli che ho lasciato a casa, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano. E mi domando perché mi tratti così, e se i fratelli che ho lasciato a casa, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano. E mi domando perché mi tratti così, e se i fratelli che ho lasciato a casa, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano. E mi domando perché mi tratti così, e se i fratelli che ho lasciato a casa. E mi domando perché mi tratti così, e se i fratelli che ho lasciato a casa, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano. E mi domando perché mi tratti così, e se i fratelli che ho lasciato a casa, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano. E mi domando perché mi tratti così, e se i fratelli che ho lasciato a casa, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano. E se i fratelli che ho lasciato a casa, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano. E se i fratelli che ho lasciato a casa, a infilarmi in tutti i pori, potresti fare un po' più piano. Finito il disco ragazzi, tutti a casa. Dai andiamo via. Non lo comprerà nessuno. Esatto. Grazie. 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 Grazie.